Il Covid continua a tenere in allerta le istituzioni sia nazionali che regionali. In Sicilia le infezioni da Covid-19 sono in crescita. Nella settimana dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 c'è stato un incremento dei nuovi casi del 26,18%, in media 225 casi per 100.000 abitanti. La percentuale più alta si è registrata nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Le fasce di età maggiormente a rischio sono sempre quelle tra i 69 e gli 89 anni, mentre le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, sebbene molti contagi siano stati rilevati su soggetti ricoverati per altri motivi. Più di metà dei pazienti in ospedale, inoltre, risulta non vaccinata. Il Dipartimento regionale, alla luce della elevata diffusione della variante Omicron, suggerisce il rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive. Inoltre, esorta una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce di età, soprattutto quelle tra 5 e 11 anni, e il completamento dei cicli di vaccinazione. Sul fronte dei vaccini, nella fascia di età a 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono al 24,18%, mentre il 20,80% ha completato il ciclo primario. Nella popolazione over 12, invece, i vaccinati con almeno una dose sono il 90,92% del target regionale, mentre il 9,08% del target rimane ancora da vaccinare. Sono in totale 1.057.485, invece, i cittadini siciliani a cui non è stata somministrata la terza dose. Le quinte sono complessivamente 6.681. A riceverle sono state, da settembre 2022 a oggi, i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, gli over 80, gli ospiti in RSA e persone over 60 con fragilità.